un'altra volta stiamo lasciando roma e lasciamo anche qui un pezzo del nostro cuore perché Roma ha segnato la nostra esistenza e qui lasciamo anche gli amici ma siamo pronti andiamo a Victoria Secret mentre lascia il cuore certo così dopo lascerò anche qualcos'altro il desiderio e ora siamo qui nella stazione a prendere il treno che ci porterà verso un'altra avventura mi sento in obbligo di consigliare a un tale posto che si chiama Paltellina lo trovate nei pressi della chiesa di Dante è proprio a fianco e si mangia molto bene schiacciate lambredotto cose così noi abbiamo mangiato le schiacciate e devo ammettere che sono veramente buoni gusti particolari non classici ovviamente potete trovare anche i classici ma la peculiarità è che sono proprio gusti originali nel senso non è tipo il classico gusto che hai quelle tre scelte e basta hai tanta più scelta di gusti e comunque anche un mix di sapori un po' differente dal solito sinceramente abbinano i salumi all'arancia no il formaggio era più il formaggio che abbinavano all'arancia il mio con le noci io ho preso una schiacciata al lardo pecorino e noci ed era un gusto deciso che si era molto come dire deciso era forte non era buono molto buono la mia invece aveva filadelfia noci e salame e poi avevano tutto è piccolissimo però hanno tutti gli affettati tagliati freschi quindi c'è si mangia bene anche se è una cosa take away cioè fatta veloce e anche il rapporto comunque con qualità prezzo la schiacciata era fresca e ti lascia in bocca il ricordo di un buon sapore occhio che si incide abbiamo i biglietti abbiamo i biglietti per i poveretti alla fine invece di visitare gli uffici abbiamo deciso di visitare palazzo pitti palazzo pitti che non so se può fare riprese dentro però se si può aiuto siamo in albergo ed è l'albergo ed è l'albergo ed è aiuto mi stava cadendo la videocamera niente noi siamo arrivati in albergo ancora oggi pomeriggio perché eravamo stanchi stanchissimi stancosi stanchi abbiamo finalmente visto la camera perché questa mattina non ce l'aveva guardata solo nel pomeriggio e siamo proprio contenti di questa scelta perché intanto è subito fuori dalla stazione quindi c'è uscita dalla stazione di Firenze e siete in albergo che io direi che è comodissimo soprattutto quando dobbiamo ripartire anche perché ci tengono le valigie secondo non pare un annoiato è proprio bella anche la camera e adesso questo bradipo resta qui e noi ve la facciamo vedere perché bradipo bradipo si entra da qui se la porta si entra c'è l'armadio casino un bradipo nel letto e la camera è super grande c'è lo specchio c'è la tv c'è la tv che finalmente siamo riusciti a mettere in italiano vabbè c'è l'angolo cottura che noi non useremo perché costa tipo 50 euro al giorno ed è una cosa impossibile e poi c'è il bagno che è mega gigantesco ed è anche tanto tanto pulito quindi votatissimo ottimissimo questo hotel e adesso andiamo a bagnare ma a bere prima prima aperitivo e poi a mangiare per la prima volta l'hard rock caffè perché non ci siamo proprio mai stati nella nostra vita e quindi si spiega perché andiamo la perché volevamo cioè noi non siamo mai stati a mangiare l'hard rock caffè mai e a venezia ce l'avremo anche comodo perché non è proprio comodo a firenze ci siamo già stati tutti e due quindi la conosciamo comunque abbastanza bene e abbiamo detto ascolta visto che siccome abbiamo visto la pubblicità per strada oggi camminando abbiamo detto quasi quasi proviamo questa esperienza l'hard rock caffè dicono che si mangia bene non abbiamo mai provato quindi proviamo l'hard rock caffè stasera vediamo come va prezzi un po' altini però vediamo come va ciao